Oggi inizia l'ottavo Festival Internazionale di Tango al Mare di Senigallia, un'esperienza bellissima per tutti gli appassionati di tango argentino, che si amano definire tangheros. Sono quattro notti in cui si ballerà e quattro giornate in cui avremo l'opportunità di imparare tantissimo da quattro grandissime coppie di maestri. Avremo anche l'opportunità di poter sfruttare, come dicono gli argentini, della cucina argentina e della buona musica tutte le ore del giorno e della notte in una location meravigliosa vicino al mare. Quindi la spiaggia di Velluto fa la cornice al tango argentino, due realtà meravigliose che si sposano.